Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Sergio Manna. Care sorelle e cari fratelli, buona domenica. Benvenute e benvenuti a questo culto della quinta domenica del Tempo di Passione. Invochiamo la presenza del Signore. Il nostro principio e il nostro aiuto sono nel nome di Dio, il quale vuole che tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Ascoltiamo dal Salmo numero 130 i versetti 5 e 6. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella Sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore Dio nostro, siamo qui alla Tua presenza perché confidiamo in Te, perché la Tua parola ci dona speranza. Ti lodiamo e Ti benediciamo, perché in Te troviamo senso, scopo e orientamento per le nostre vite. A Te che sei buono e misericordioso, sia lode e gloria, ora e sempre. Amen. Ascoltiamo ora il canto Confitemini Domino. Confitemini Domino. A Te che sei buono e misericordioso, sia lode e gloria, ora e sempre. Confitemini Domino. A Te che sei buono e misericordioso, sia lode e gloria, ora e sempre. Confitemini Domino. A Te che sei buono e misericordioso, sia lode e gloria, ora e sempre. Confitemini Domino. Confitemini Domino. Domino Domino. A Te che sei buono e misericordioso, sia lode e gloria, ora e sempre. Confitemini Domino. Alleluia. A Te che sei buono e misericordioso, sia lode e gloria, ora e sempre. Il testo della predicazione di oggi si trova nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo quinto, i versetti da 1 a 14. Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'era una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. E il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse «Vuoi guarire?». L'infermo gli rispose «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Quel giorno era un sabato. Perciò i giudei dissero all'uomo guarito «È sabato, non ti è permesso portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro «Colui che mi ha guarito mi ha detto «Prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono «Chi è l'uomo che ti ha detto «Prendi il tuo lettuccio e cammina?». Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse «Ecco, tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio». Benedica il Signore la lettura e l'ascolto della Sua parola. «Care sorelle e cari fratelli, in questo racconto di miracolo, così com'è in altri, Gesù compie un gesto di trasgressione, guarendo un malato di sabato, giorno in cui, secondo la concezione ebraica, non era consentito, a meno che il malato non fosse in imminente pericolo di vita. In fondo, il paralitico aveva atteso per 38 anni e avrebbe anche potuto aspettare uno o due giorni in più. O no? Perché compiere quel gesto proprio in giorno di sabato, ben sapendo che ciò avrebbe suscitato le ire dei più pii e zelanti osservanti della legge mosaica? In fondo, che differenza avrebbe fatto aspettare un altro giorno? Perché Gesù mette in atto quella che sembra essere una vera e propria provocazione? Forse, semplicemente per rimarcare una cosa importante, una cosa che sta molto al cuore al Signore, e cioè che le persone vengono prima delle norme, perfino prima delle norme divine, e che il loro bene viene prima di ogni scrupolosa osservanza religiosa. Perché per chi sta male, anche e soprattutto da molto tempo, non solo 24 ore possono fare una differenza importante, ma perfino un'ora sola può fare la differenza. Come ben sa chi soffre di dolore acuto e deve spesso attendere ingiustamente ore prima che venga somministrata una dose di morfina o un altro antidolorifico. È sempre facile dire a qualcun altro che può aspettare quando la sofferenza è la sua e non la nostra. Le cose cambiano, invece, quando il dolore acuto colpisce noi. In quel caso non avremmo alcuna esitazione ad affermare che non possiamo aspettare un giorno in più, neppure un'ora in più, prima che quel dolore ci venga tolto. In fondo, è questione di empatia. E Gesù, che è profondamente empatico, non ha allora nessun dubbio sulla licetà di guarire il paralitico un giorno di sabato, anche se questo farà arrabbiare i suoi correligionari. Detto questo, bisogna però riconoscere che questa affermazione sull'empatia di Gesù potrebbe però apparire contraddetta dalla domanda che Gesù rivolge al paralitico. «Vuoi guarire?». Che domanda è mai questa? Non è forse una domanda inopportuna, indelicata, perfino stupida, oltre che assolutamente superflua? Una domanda tutt'altro che empatica. Possibile che quell'uomo malato da 38 anni, praticamente una vita, non desideri guarire. Perché mai allora sarebbe stato tutto il tempo lì nei pressi di quella vasca di Betesda considerata miracolosa? Commentando questo brano del Vangelo, Hanna Wolf, teologa e psicoterapeuta, afferma che la domanda di Gesù in realtà non è affatto fuori luogo, anziché è la prima domanda cardine di ogni terapia. Perché non basta delegare agli altri il compito di guarire, non basta voler essere guariti da qualcuno, bisogna voler guarire e mettersi in gioco in prima persona, soprattutto quando la sofferenza ha origini psichiche. Perciò la domanda che Gesù pone non è vuoi essere guarito? Bensì vuoi guarire? Si tratta, a ben vedere, di una domanda tutt'altro che un'opportuna. E non a caso l'uomo di Betesda, quando gli viene chiesto se ha voglia di guarire, non risponde ma sicuro, certo che lo voglio, sono qui per questo, per essere guarito. No. Invece di rispondere direttamente alla domanda di Gesù, egli in buona sostanza si pone nell'atteggiamento della vittima e rivolge un'accusa agli altri. Sono loro che non mi lasciano guarire. Se resto nella mia condizione è perché nessuno mi aiuta. Forse potrei guarire, ma non dipende da me, dipende dagli altri. In realtà, la sua risposta, come rileva Hannah Wolf, non appare del tutto convincente. È forse possibile che in 38 anni egli non abbia mai potuto trovare una persona disposta ad aiutarlo, né una stampella alla quale appoggiarsi. E se si fosse semplicemente adagiato nella sua situazione? E se il suo stato di malattia fosse diventato lo strumento per ottenere l'attenzione e la carità altrui? Forse addirittura la principale fonte di reddito per se stesso e per la sua famiglia. Ecco, in quel caso, la domanda di Gesù vuoi guarire? Avrebbe ancora più senso. Perché la guarigione avrebbe comportato sicuramente un cambiamento radicale nella vita di questa persona. Ad un tratto, quest'uomo avrebbe dovuto mettersi a lavorare veramente, assumersi delle responsabilità in prima persona, cambiare completamente il suo modo di vivere. Vuoi guarire? Già. Lo voglio veramente. Anche se questo significa sconvolgere la routine alla quale sono abituato da una vita. Voglio veramente cambiare, rimettermi in piedi, riprendere in mano le redini della mia vita. Oppure questo cambiamento mi spaventa. di fatto qui Gesù non prende in braccio il paralitico, non lo depone nella vasca e non aspetta che un angelo venga ad agitare le acque. a quest'uomo che forse si era adagiato troppo nella propria condizione, aspettandosi tutto dagli altri, nulla da se stesso, a quest'uomo che non perdeva l'occasione per criticare gli altri quando il loro agire non era secondo le proprie aspettative, Gesù rivolge un appello personale, diretto. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Alzati tu. Non attendere che siano gli altri a sollevarti. Mettiti in piedi e non aspettarti che altri ti portino in braccio. smettila di accusare il prossimo per la tua condizione, per quello che non va nella tua vita. Cessa di delegare agli altri il compito di guarirti. Sì tu a volere la tua guarigione, il tuo cambiamento, la tua conversione. Perché nessun angelo, nessuna acqua miracolosa, nessun santuario potrà compiere per te ciò che tu non desideri nel profondo del tuo cuore. Vuoi guarire? E allora fa la tua parte. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Non importa se la tua andatura sarà incerta, se zoppicherai, se dopo i primi passi cadrai e dovrai rialzarti più e più volte. fai la tua parte e il Signore farà il resto per te. Ed è così che quest'uomo finalmente si rimette in piedi perché prende sul serio l'appello rivoltogli da Gesù, perché budisce alla parola del Signore, una parola che non ha bisogno di effetti speciali, di scenografie, di vasche miracolose, di angeli per essere veramente efficace. Se Cristo ti parla, tu devi ascoltarlo. Se Egli ti dice di alzarti, allora tu ti alzi, anche se sei paralitico, perfino se sei morto. Perciò qui il paralitico si alza e cammina come più avanti il morto Lazzaro verrà fuori dal suo sepolcro. Perché, sorelle e fratelli, Cristo fa questo. Cristo rimette in piedi, rialza, risuscita. Questo è il messaggio centrale di questo racconto del Vangelo di Giovanni, così come di tutto il Vangelo di Giovanni. Ma c'è un ultimo aspetto sul quale vorrei soffermarmi. Ciò che Gesù dice all'uomo ormai guarito quando poi lo ritrova nel Tempio. Ecco, tu sei guarito, non peccare più perché non ti accada di peggio. Qualcuno si è domandato se queste parole non fossero dovute al fatto che l'uomo non appena era stato rimproverato per essere andato in giro col suo lettino in giorno di sabato aveva scaricato la colpa su Gesù, di fatto peccando contro colui che gli aveva restituito la salute. Qualcun altro ha ritenuto che con quella frase Gesù dimostrasse di condividere l'idea di molti dei suoi contemporanei secondo la quale le malattie erano il frutto e la conseguenza dei peccati commessi. Nell'una nell'altra ipotesi mi sembrano convincenti. Tanto più che nel medesimo Vangelo di Giovanni Gesù rifiuta la connessione tra colpa e malattia. Quando nell'episodio del cieco nato i discepoli gli chiedono maestro chi ha peccato lui o i suoi genitori perché sia nato cieco Gesù risponde infatti nel lui ha peccato nei suoi genitori affrettandosi a curarlo a guarirlo anziché perdersi in disquisizioni teologiche o filosofiche. Ma allora come va intesa questa parola di Gesù? Ecco tu sei guarito non peccare più che non ti accada di peggio. A quale peccato si riferisce Gesù? E cosa potrebbe essere quel peggio? Io penso che una lettura possibile è che qui il Signore voglia mettere in guardia quest'uomo ormai guarito dal pericolo di una ricaduta dal rischio di lasciarsi andare nuovamente alla vita di prima allo scivolare di nuovo nella paralisi l'adagiarsi nella posizione dell'infermo di qualcuno che si aspetta tutto dagli altri e niente da se stesso. Ecco forse qui il peccato è proprio questo il mollare il lasciarsi andare passivamente il disperare quando c'è ancora spazio per la speranza il comportarsi da morti mentre si ancora vivi. non peccare più che non ti accada di peggio ecco questa non è la minaccia di un castigo ma un invito a vigilare sulla propria vita su tutto ciò che può minare la nostra salute spirituale e psichica oltre che fisica. come giustamente ricorda Alphonse Meillot guarire una malattia fisica può anche essere relativamente facile qualche volta perché si tratta di guarire solo una parte dell'essere umano quella più accessibile ben più difficile invece è guarire il male profondo che appare inaccessibile ai guaritori umani quello è il peggio e ciò che può far marcire il cuore e l'anima ed è proprio per guarire questo peggio che Cristo è venuto e allora sorelle e fratelli questo racconto del Vangelo è certamente anche per noi che paralitici certamente non siamo ma che non possiamo non riconoscerci come peccatori e peccatrici bisognosi della grazia e della redenzione che solo Cristo il grande medico può donarci ci sia dato di desiderare veramente la nostra guarigione possa il Signore guarire le nostre anime i nostri cuori da tutto ciò che li paralizza possa egli di recare all'umanità intera la salute e la salvezza di cui essa necessita amin ascoltiamo ora il canto nada te durbe nulla ti turbi nulla ti spaventi la salvezza la salvezza Grazie a tutti. 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 Possano le notti più buie della nostra esistenza essere illuminate dalla sede di Te, che sei la fonte della vita e di ogni bene. Amen. Ascoltiamo il canto di notte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.